L'Italia intera ne parla e grida allo scandalo, ma nel Molise tutto tace. È un silenzio davvero imbarazzante quello che avvolge la politica regionale, centrodestra, grillini, centrosinistra e suoi dissidenti, molte associazioni e quasi tutti i sedicenti intellettuali molisani sulla vicenda Biocom. Eppure il 30 maggio del 2008, con due distinti ordini di pagamento emessi dalla regione, vennero accreditati rispettivamente 45.392 e 220.867 euro sul conto corrente della banca di Ancona, con IBAN intestato alla Biocom SRL, il cui legale rappresentante era allora l'architetto Paolo Di Laura Frattura per un impianto mai realizzato. La vicenda Biocom finì nelle mani del PM Fabio Papa e da allora si sono intrecciate una serie di azioni giudiziarie, ma dopo la sentenza del Consiglio di Stato sono emersi tutti gli aspetti oscuri della vicenda, conflitti di interesse, intrecci pericolosi tra politica e organi inquirenti con la frettolosa archiviazione chiesta e ottenuta da un altro PM subentrato nell'inchiesta dopo il trasferimento di Fabio Papa, nonché l'assurda sentenza del Tar Molise ribaltata dal Consiglio di Stato che addirittura aveva dato ragione alla Biocom che pure aveva incassato 265.000 euro senza realizzare mai l'impianto finanziato con soldi pubblici. Un vero e proprio scandalo sul quale il Molise che conta continua a tacere. Non tacciono invece gli avvocati del Codacons, Massimo Romano e Pino Ruta, che sono stati legittimati dal Consiglio di Stato a tutelare gli interessi della collettività e che si apprestano a mettere in esecuzione la sentenza per recuperare il malloppo. Con il pronunciamento del Consiglio di Stato, seppure sopravvenuto dopo diversi anni, toccherà procedere al recupero di queste somme e quindi in realtà andranno attivati tutti i meccanismi affinché queste somme, che sono pubbliche rarie e quindi sono risorse nostre, vadano in qualche modo riprese dalla Regione e utilizzate per degli scopi pubblici. Chi metterà in esecuzione questa sentenza, considerato che oltre ai 265.000 euro ci sono anche interessi maturati e rivalutazione monetaria? Il Codacons vorrà in essere questi atti esecutivi e posso poi annunciare che già verrà a breve notificato una diffida affinché la Regione Molise e gli organi competenti per essa procedano al recupero di queste somme e affinché gli organi preposti al controllo, cioè Procura della Corte dei Conti e Procura della Repubblica, accertino che questi adempimenti vengano posti in essere nei tempi e modi di legge. Ci sono legati alla Biocom anche vicende di tipo penale, ci sono state quantomeno una Biocom archiviata frettolosamente dalla Procura, dal Tribunale di Campobasso, c'è possibilità di riprendere quell'archiviazione? Dal punto di vista penale c'è stata un'archiviazione, probabilmente le circostanze sopravvenute giustificano un maggior approfondimento proprio alla luce di quelle che sono le pronunce sopravvenute. Infatti si rende necessario riaprire l'inchiesta penale sulla Biocom per eliminare ogni dubbio su possibili insabbiamenti e per ridare tranquillità ai cittadini.